È arrivato! Cacini, 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 c'ha fatto un mila medaglie, 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 e rispetta il suo nome, e l'hanno fatto valore, è una celebrità. Con un aereo privato, a Parigi se ne è andato, l'ha incontrato Brigini, che mangiava un biscuit, con un cento i. Quando ha visto Armandone, gli ha gollato il vidone, da piantare lui, anche il bar di Parigi, senza tanti sci-si-si. È arrivato! Cacini, 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 c'ha fatto largo che passa, che passa, che passa, ogni cosa che fa è sempre primo lui è, e non c'è niente da far. Ai mondiali del tango, che si fanno a Madrid, con la mora dell'I, te l'ha fatto impazzire, te l'ha fatto in morire, si è beccato tre coppe, te d'oro massiccio, ma è sbagliato nel là, per un fa se becca, dagli svidi dell'I, è arrivato a cacene, cacini, cacini, fate l'argo che passa, che passa, che passa, ogni cosa che fai, sempre prima lo è, e non c'è niente da fare. L'altro giorno a Chicago, ha sfidato a Pigliardo, è il campione locale, che gli ha fatto un po' male, ma non può più giocare, non aveva capito, che qua Armando di Roma, quando vuole giocare, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. È arrivato a cacene, cacini, cacini, fate l'argo che passa, che passa, che passa, ogni cosa che fai, sempre prima lo è, e non c'è niente da fare. E' arrivato Cacinti, c'ha un mila medaglie, e rispetto al suo nome l'hanno fatto valore, è una celebrità, è una celebrità, è una celebrità. Grazie a tutti.